stamane volevo parlarvi di funghi e avevo fatto una piccola raccolta per darvi alcune spiegazioni ma si è resa prioritaria un'altra vicenda qual è la vicenda del famoso processo breve tanto contrastato e vituperato è passato ora a un processo lungo io domando e mi domando cari e avvocati ghedini e compagni del vostro del beneamato ancora per poco presidente del consiglio a quando un processo tucur solo un processo c'è una risposta d'altra parte in questo clima di mistificazione di cercare di rimediare a un crollo elettorale che ha un tsunami che ha subito il pdl e la lega questi escamotaggi sono all'ordine del giorno il primo ve l'ho detto ora siamo al secondo il secondo è che la la i capi lega stanno come dire mistificando e alcune cose nei confronti del proprio elettorato gli stanno gabellando per spostamento di ministri di ministeri da roma alla brianza ben quattro ministeri quello che è un semplice spostamento di uffici periferici di ordine amministrativo e basta vabbè ma tant'è anche questa poi la pagheranno insieme a tutte le altre perché il popolo non è così bue come credete e comunque alla luce anche di alcune altre considerazioni di queste ore questi piccoli pochi soldi che state spendendo non sarebbe opportuno per per esempio accantonarli per creare una magari anche piccola clinica psichiatrica e di nominarla dargli il nome di borghezio uno dei vostri rappresentanti addirittura alle europa questo signor borghezio peraltro in questa clinica psichiatrica potrebbe essere anche il primo ospite il primo paziente ne darebbe un buon esempio perché per quanto dice per quanto fa per come si muove più da psichiatria che lui cos'altro ci può essere arrivederci